Ciao a tutti, io sono Ale Borgamere e vi do il benvenuto nel mio canale. Con il video di quest'oggi vi insegnerò a giocare ad un titolo che si ispira all'omonimo videogioco. Vi sto parlando di Stardew Valley The Board Game, un titolo di Colmedeiros e Concert Ape per 1-4 giocatori della durata indicativa di circa 60 minuti circa per partita. Stardew Valley è un gioco da tavolo cooperativo che può essere affrontato in 2, in 3, in 4 giocatori oppure in solitaria. Proprio come nel videogioco ad cui prendi ispirazione, avremo a disposizione una milida di azioni. Potremo coltivare, raccogliere foraggi, costruire edifici, allevare animali, visitare miniere, pescare, fare amicizia, sposarsi, donare reperti, artefatti al museo e molte, molte, molte altre cose. Lo scopo del gioco sarà quello di completare i 10 obiettivi che il gioco ci mette di fronte all'interno dei 16 turni fissi di gioco. Ma allora non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere come si gioca a Stardew Valley. Ed eccoci qua allora a vedere come si gioca a Stardew Valley. Come potete notare il tavolo è pieno di componenti. Abbiamo il tabellone, abbiamo tessere, carte piccole, carte grande, dadi, segnalini e chi più ne ha più ne metta. Non fatevi spaventare perché se il setup è un pelino lungo perché dobbiamo andare a posizionare tutto, in realtà il gioco è molto semplice, trattasi di fare due azioni a turno. La cosa più impegnativa sarà cercare di coordinare al meglio le azioni, scegliendo quelle corrette per arrivare poi a soddisfare i 10 obiettivi che abbiamo nella nostra partita. Allora andiamo a vedere come si prepara la partita, andiamo molto velocemente perché tanto durante la spiegazione delle azioni vi spiegherò passo passo tutti i settori del nostro tabellone. Allora partiamo dalla parte superiore del tabellone dove andiamo a piazzare gli obiettivi. Gli obiettivi sono 10 e sono divisi in due tipologie, i 6 obiettivi del centro comunitario e i 4 obiettivi del nonno. Allora per quanto riguarda la preparazione, prendiamo gli obiettivi, quindi i pacchetti per ogni stanza e ne mettiamo uno casualmente sulla stanza corrispettiva. Lo mettiamo faccia in giù perché durante la nostra partita dovremmo prima rivelarlo e poi cercare di completarlo. Per quanto riguarda invece gli obiettivi del nonno, prendiamo tutti gli obiettivi che sono queste carte con la lettera sul retro e ne mettiamo 4. Questi li mettiamo già girati perché sappiamo già effettivamente cosa dobbiamo fare. Tutti gli obiettivi ci chiedono di fare delle cose abbastanza semplici. Di solito è recuperare dei materiali, questo ci dice di andare all'ultimo livello delle miniere, questo ci dice di fare amicizia e così via. Per quanto riguarda questi obiettivi invece i pacchetti ci chiedono semplicemente di portare del materiale in ogni stanza. Attenzione, una cosa molto interessante secondo me è che quasi tutti gli obiettivi sono rapportati al numero di giocatori. Cioè non dobbiamo andare a fare nessuna modifica, dobbiamo solo fare un calcolo. Ad esempio questo obiettivo ci dice che dobbiamo avere 10 monete per giocatore, quindi se uno gioca da solo l'obiettivo sarà 10 monete, se uno gioca in 3 l'obiettivo sarà 30 monete. Non devono essere suddivisi equamente per ogni giocatore, un giocatore potrebbe avere 9 amici e gli altri 0. Se siamo in 3 l'obiettivo è completato, se in 4 dobbiamo avere 40 monete, uno potrebbe averne 10, uno 20 e uno 10. E comunque l'obiettivo è stato raggiunto. Non dobbiamo risolverli mettendo del materiale, dobbiamo solo arrivare ad avere quello che è richiesto. Mentre questi obiettivi pacchetti qua del centro comunitario dobbiamo proprio fisicamente piazzare sopra tutti i materiali che ci vengono richiesti. Qui andiamo a formare la nostra miniera, prendiamo le carte che rappresentano i livelli della miniera, dall'1 in alto in ordine fino al 12 in basso. Li piazziamo qua con l'1 in alto perché siamo a livello numero 1. Poi prendiamo le carte mappa che rappresentano proprio i piani di ogni livello. Ovviamente ogni volta questo piano sarà casuale, peschiamo una carta e la mettiamo qua. Questo significa che il primo livello avrà questo tipo di conformazione. Vicino mettiamo gli eventi miniera che possono capitare durante l'esplorazione. Le carte evento semplicemente ci daranno delle cose, oggetti o quant'altro. Passiamo adesso alla zona della coltivazione, ma prima vi faccio vedere lo splendido organizer che possiamo trovare all'interno della scatola. Qui troviamo tutte le nostre tesserine, ci sono i semi, i prodotti che otteniamo dall'allevamento degli animali e le pietre e i minerali. In questo caso per quanto riguarda il setup dobbiamo prendere un seme di pastinacca che troviamo qui e piazzarlo nello spazio numero 2. Questo qui è lo spazio che noi utilizzeremo per piantare e raccogliere i vari ortaggi, frutta e verdura durante la nostra partita. Attenzione che la disposizione di tutte le tesserine nell'organizer è ben indicata all'interno del regolamento. Adesso dobbiamo andare a prendere le tessere della stagione in corso, quindi quelle rosa, le tessere primaverili perché il gioco inizia in primavera, per poi andare in estate, in autunno e concludersi in inverno, abbiamo le tessere foraggio, quelle che hanno solo il retro colorato, e le tessere albero che sono quelle con l'albero dietro che ci forniscono solamente il legno. Andiamo a piazzare queste tessere, le tessere albero le andiamo a piazzare dove abbiamo il tronco, le tessere foraggio dove abbiamo il disegno del funghetto. In questo modo qui. Prendiamo adesso il sacchettino nero dove abbiamo messo all'interno tutte le tessere dei pesci, andiamo a pescarne 5 casualmente e li piazziamo sul tracciato di pesca, in questo modo qua. Andiamo adesso a formare il nostro mazzo delle stagioni. Le stagioni scandiscono i turni di gioco, sono 16 turni, ogni stagione ha 4 carte che rappresentano 4 round di gioco, più la carta di fine stagione. Allora, inizialmente, per prendere confidenza con il gioco, vi consiglio come regolamento di utilizzare le carte standard. Sono 4 carte scelte appositamente per farvi abituare a tutte le azioni di gioco. Ne prendiamo 4, le mischiamo e mettiamo la carta fine stagione sotto. Facciamo lo stesso con l'estate, con l'autunno e con l'inverno. Questa carta rappresenta la fine del gioco. Le mettiamo in questo preciso ordine, le mettiamo qui. Ad inizio di ogni turno gireremo una carta stagione che ci dirà cosa fare all'inizio di quel determinato round. Andiamo a creare poi la riserva degli abitanti, degli oggetti, degli oggetti epici, degli eventi, il sacchetto con le tessere pesce e il sacchetto con le tessere artefatto e minerale. Qui andiamo a creare altre riserve, le tessere gioja, i dadi stardiu, la pedina del coniuge, le carte miglioramento delle professioni e le carte miglioramento degli attrezzi di ogni professione. Andiamo adesso a creare la riserva degli animali degli edifici. Gli animali sono divisi in due tipi. Abbiamo la pila con mucca, capra e pecora e l'altra pila con coniglio, anatra e gallina. Queste due tipologie di animali per essere allevati durante la partita hanno bisogno del loro rispettivo edificio. Quindi abbiamo l'edificio per gallina e compagni e l'edificio per mucca e compagni. I due edifici riguardanti gli animali sono obbligatori. Durante la partita, come vedremo, per poter allevare gli animali dovremmo prima costruire il nostro edificio e queste sono le risorse necessarie per costruirlo. Poi di tutti gli altri edifici li mettiamo casualmente oppure i giocatori possono scegliere di comune accordo ne mettiamo altri due qua sotto. Questi altri due edifici potranno essere sempre costruiti durante la partita e daranno delle abilità uniche. Per ultimo andiamo a creare una riserva di cuori e monete e adesso passiamo a vedere le dotazioni del giocatore. Ogni giocatore sceglierà il colore della propria pedina e inizierà con tre monete. Uno dei concetti fondamentali in Star Dew Valley è la specializzazione. Ogni giocatore dovrà scegliere una specializzazione che lo aiuterà durante la partita a compiere quella determinata azione. Un giocatore può essere specializzato nella miniera, nella coltivazione, nella pesca e nella raccolta del foraggio. In base alla professione che un giocatore sceglierà riceverà insieme alla plancia anche il relativo attrezzo che potrà potenziare durante la propria partita per aumentare il potere di quella professione. Vedendo velocemente la plancia di gioco noi abbiamo lo spazio per l'attrezzo, abbiamo al massimo sei spazi disponibili per i vari semi, pesci o minerali o artefatti e poi abbiamo degli spazi qua sotto. Qui possiamo ottenere al massimo due carte miglioramento professione che ci daranno delle abilità uniche relative alla nostra professione e lo spazio per gli oggetti. Possiamo ottenere al massimo due oggetti. Nel caso in cui dovessimo ottenere degli oggetti epici andranno fuori dai nostri slot. Sono infiniti. I giocatori possono scambiarsi gli oggetti tra di loro durante la partita. Come vedremo nella fase del turno iniziale dove andiamo a pianificare le nostre azioni i giocatori possono liberamente scambiarsi gli oggetti per cercare di ottimizzare al meglio tutte le azioni che andremo a fare durante il round. Ora che il setup di gioco è terminato scegliamo casualmente il primo giocatore prende questo carinissimo segnalino primo giocatore può tenerlo dal lato che vuole il cane o gatto non cambia nulla e la nostra partita può avere inizio. Andiamo quindi a vedere come funzionano i round di gioco in Stardew Valley. Un round di gioco è composto da queste tre fasi la fase stagione, la fase di pianificazione e la fase azione. Andiamo a vederle nel dettaglio. Iniziamo con la fase stagione. Prima di iniziare un round di gioco dobbiamo pescare la prima carta in cima al mazzo delle stagioni e risolvere tutte le azioni descritte sopra di essa in ordine dall'alto verso il basso. Tutti questi simboli hanno un funzionamento molto semplice. Allora su Board Game Geek potete trovare il regolamento tradotto. Questa è la versione in inglese non esiste ancora localizzata in italiano. Secondo me è facile che un gioco così bello posso dire che è un bel gioco possa essere portato in Italia ma nel caso in cui abbiate difficoltà con l'inglese potete andarvi a trovare e scaricare il regolamento in italiano. Vi lascio comunque il link in descrizione. Questi sono tutti i simboli e abbiamo tutte le spiegazioni. Non sto a farvele vedere una per una se no il tutorial diventa lunghissimo ma sappiate che sono cose veramente veramente basilari. Vi spiegherò soltanto l'ultimo simbolo questo qua il cestino di spedizione perché è molto importante. Perché è molto importante il cestino di spedizione? Perché in questo momento i giocatori possono vendere tutto ciò che hanno nel loro inventario per guadagnare i soldi effettivi. In questo caso se io volessi vendere questa zucca ne ricaverei 5 monete d'oro. Esiste un'azione come vedremo più avanti in cui voi potrete vendere degli oggetti ma varranno solamente uno per oggetto. Quindi in questo caso il consiglio è che quando dovete vendere fatelo in questo momento se no ci perderete un sacco di monete. La fase 2 è la fase di pianificazione ovvero quella fase in cui i giocatori parlano e discutono sul da farsi. Molto semplice come vi ho detto prima in questa fase di pianificazione i giocatori possono anche scambiarsi i vari oggetti per ottimizzare poi le azioni che andranno a fare. Passiamo adesso alla fase cruciale ovvero la numero 3 la fase delle azioni. In questo caso i giocatori andranno a mettere la pedina sul loro tabellone per svolgere due azioni. Abbiamo tutti questi spazi a disposizione possiamo usare la nostra pedina in due modi diversi. Premessa possiamo andare a piazzare la nostra pedina dove vogliamo non abbiamo nessun tipo di vincolo. Come ho detto la possiamo usare in due modi differenti. Possiamo fare due azioni nello stesso spazio spazio si intende in questo caso la città. La città ha tre azioni diverse però lo spazio è unico. Oppure possiamo prendere la nostra pedina piazzarla su uno spazio fare un'azione e poi spostarla seguendo la strada in uno spazio adiacente e fare un'altra azione. Allora nel caso in cui volessimo fare due azioni nello stesso spazio le azioni possono essere diverse quindi o questa o questa o questo o questo oppure anche la stessa decidiamo di fare due azioni da Gus per farci un amico. Nel caso in cui volessimo fare due azioni in due spazi diversi ma adiacenti dobbiamo agire in questo modo vado a piazzare la mia pedina su Gus faccio l'amico decido di andare a comprare animali quindi sposto la mia pedina da qui a qui. Prima di compiere l'azione di comprare animali posso però raccogliere una delle tessere che sia albero o foraggio nel tratto di strada che ho appena percorso. Posso decidere in questo caso avendo percorso questo tratto di prendere o questa tessera o questa tessera. Raccolgo questa tessera so sempre che ci sarà legno. Il legno ci servirà a costruire gli edifici cosa faccio? Prendo la tessera e me la metto in uno spazio libero del mio inventario. Abbiamo questo simbolino rosso che ci dice che questo tipo di oggetto quindi il legno in questo caso non potrà essere dato agli amici quando andremo a farci gli amici. Sappiate che è possibile trovare o foraggi come questo col simbolo del fungo il foraggio sarà stagionale quindi avremo il simbolo della stagione in corso e molto importante perché potranno essere utilizzati per esaudire degli obiettivi nelle stanze del centro comunitario. Questi oggetti possono anche essere venduti per fare soldi oppure dati per fare amicizia. Oppure potremmo eventualmente trovare dei minerali o degli artefatti. Quando troviamo una tessera del genere in questo caso abbiamo trovato un minerale dobbiamo andare a prendere il sacchetto degli artefatti di minerali e estrarre una tessera. Vedete che da un lato come avete visto prima c'è un artefatto dall'altro c'è il minerale. Semplicemente avendo trovato un minerale abbiamo trovato questo lato della tessera. Lo andiamo così a piazzare nel nostro inventario. Possiamo quindi svolgere ora la nostra seconda azione. Dopo che abbiamo concluso questa azione abbiamo terminato il nostro turno. Prendiamo la pedina e la mettiamo in questa casa. Ora abbiamo anche la possibilità volendo o potendo di compiere ancora un'azione di fine turno. Le azioni sono queste qua. Possiamo costruire le scale in una miniera e quindi scendere di un livello rendere un animale più felice rimuovere una tessera gioggia dal tabellone oppure potenziare di un livello il nostro strumento iniziale professionale. Scendere di un livello nella nostra miniera. Come facciamo? Scartiamo un numero di pietre pari al numero di giocatori quindi se sono da solo basta una pietra. Cosa faccio? Tolgo la carta numero 1 e passo al livello numero 2 e prendo una nuova configurazione del dungeon. Per rendere felice un animale dobbiamo guardare la quantità di cuori richiesta dall'animale stesso. Renderlo felice vuol dire girarlo sul lato felice questo ci permette di ottenere un prodotto più performante nel momento in cui andiamo a cercarli. Come facciamo? Dobbiamo spendere un numero di cuori pari al numero di giocatori rispetto a quelli che sono raffigurati sulla carta. In questo caso la papera vuole un cuore quindi se siamo in due giocatori spenderemo due cuori per rendere l'animale felice. Rimuovere una tessera gioggia dal tabellone nel costo di cinque monete o un cuore. Attenzione che questo costo è fisso non è relazionato al numero di giocatori. Cosa sono le tessere gioggia? Durante la fase stagione potrebbe capitare che dovremmo andare a mettere queste tessere sul tabellone. Andiamo a pescare dalla riserva la prima e sulle tessere noi troveremo praticamente il simbolo di dove andrà messa. Questa tessera ad esempio riguarda l'azione comprare animali. Questo è un fastidio perché darà delle difficoltà a compiere questa azione quindi noi potremmo andare a toglierla per liberare nuovamente la nostra azione e renderla pienamente efficiente. Migliorare di un livello il nostro strumento professionale. Come vedete inizialmente noi cominciamo con uno strumento a livello 0 che non ci dà alcun vantaggio ma in basso a destra abbiamo la spesa richiesta per poterlo livellare. Quindi nel momento in cui possiamo farlo spendiamo il materiale richiesto questo ritorna nella riserva e andiamo a prendere la carta relativa di livello 1 la prendiamo e la piazziamo sopra ora il nostro strumento è di livello 1 e comincia a darci dei vantaggi in questo caso il minatore ci permette di modificare di uno spazio in alto il risultato del nostro lancio della miniera. Una volta che tutti i giocatori in partita hanno compiuto le loro due azioni il round ha termine in questo caso semplicemente se ne rinizia un altro girando una nuova carta stagione quando andiamo a girare la carta di fine stagione dobbiamo semplicemente rispettare i passi raffigurati sopra quindi togliere le tessere foraggio e tessere albero vecchie mettere quelle della nuova stagione in questo caso quelle dell'estate e poi dobbiamo andare a girare due carte miglioramento professione in base alla nostra professione in questo esempio il minatore vado a pescare le prime due carte del mazzo vado a scegliere in base alle mie necessità quale delle due carte tengo e quale vado a scartare e quella che decido di tenere la vado a mettere in questo spazio l'altra andrà scartata nel momento in cui ho già due carte e ne pesco altre due da scegliere potrò decidere se tenere queste due oppure sostituire una delle due nuove con una vecchia una volta compiuti questi due passaggi semplicemente si gira una nuova carta stagione e si inizia un nuovo round ora che abbiamo capito come funziona un round di gioco andiamo a vedere nel dettaglio tutte le azioni che possiamo trovare in Stardew Valley molto importante tutti i soldi e i cuori conquistati dai giocatori durante la partita sono comuni da tutti i giocatori quindi sono utilizzabili sempre da tutti quanti cominciamo con l'azione annaffiare i semi tutti i semi che sono su questo tracciato si spostano di uno spazio verso destra la zucca va qui il melon va qui la pastinaca in questo caso spostandosi a destra esce dal tracciato quando un seme esce dal tracciato viene conquistato dal giocatore che ha compiuto l'azione lo può mettere nel proprio inventario azione costruire un edificio nel momento in cui ci ritroviamo nel nostro inventario le risorse necessarie a costruire un edificio possiamo andare a compiere questa azione due edifici sono fondamentali per poter poi acquistare gli animali che sono questo qui e questo qui io posso spendere 10 monete e 2 legni per andare a costruire l'edificio delle mucche lo prendo lo metto nell'area comune e ovviamente anche questo vale per tutti i giocatori gli altri due edifici che abbiamo preso casualmente non sono importanti per poi comprare gli animali ma danno delle abilità uniche vediamo adesso come comprare un animale nell'esempio che vi ho appena fatto abbiamo acquistato la stalla e di conseguenza abbiamo liberato tra virgolette tutti gli animali che possono stare nella stalla io che ho deciso di andare a comprare un animale posso scegliere qualsiasi degli animali a disposizione e pagarne il costo ad esempio voglio comprare una pecora spendo 10 monete e le vado a mettere nell'area comune azioni ottenere prodotti dagli animali quando noi abbiamo comprato degli animali possiamo andarne a ricavare i loro prodotti prendiamo i tre dadi stardium e li andiamo a tirare in base al risultato che otteniamo possiamo conquistare o meno dei prodotti ad esempio ho ottenuto il simbolo dell'anatra coincide con questa tessera e quindi vado a prendere la tessera con il prodotto corrispondente che è questa qua ho ottenuto un coniglio non ho conigli negli animali che ho comprato quindi questo dado non mi dà nessun risultato ho ottenuto però un simbolo mucca io insieme ai miei compagni di gioco abbiamo acquistato due mucche di cui una l'abbiamo resa felice questo dado mi permette di ottenere sia il prodotto della mucca normale sia il prodotto della mucca felice quindi io vado a prendere due tessere una sarà il prodotto normale e l'altra sarà il prodotto potenziato che ci darà questa mucca felice tutti questi prodotti ovviamente andranno subito nel nostro inventario esplorare una miniera significa posizionare la pedina qui tirare due dadi stardew e andare a vedere le combinazioni in questo caso abbiamo fatto un cuore e un animaletto verde una combinazione mi dice che posso prendere una carta oggetto e l'altra combinazione mi dice che posso prendere una pietra allora andiamo a vedere nel dettaglio che cosa possiamo ottenere esplorando una miniera possiamo ottenere una pietra quindi andiamo nel nostro organizer e prendiamo una tesserina pietra possiamo ottenere una carta oggetto peschiamo la prima carta del mazzo oggetto e lo mettiamo nel nostro inventario possiamo ottenere dei minerali qui uno qui addirittura due i minerali che ci offre il livello sono raffigurati qui in questo caso possiamo ottenere questo minerale quando andiamo un po' più giù nel dungeon vedete possiamo ottenere diversi minerali e diversi geodi questo simbolo ci dice che possiamo ottenere un geode in questo caso abbiamo la scelta e in base al geode potremmo aprirlo e ottenere degli oggetti questo lo vedremo dopo qui abbiamo un evento miniera peschiamo la prima carta del mazzo relativo e andiamo a leggere che cosa abbiamo guadagnato attenzione perché non è tutto rosa e fiori potremo sprecare dei tiri quando capitiamo negli spazi vuoti possiamo ottenere solamente questa carne schifosissima che ci servirà per pescare dei pesci oppure potremmo finire nel boss del livello nel momento in cui capitiamo su un teschio dobbiamo andare a vedere l'effetto del teschio in quel livello in questo caso se capita nel livello 7 perdiamo un cuore nel primo livello se capita sono ancora buoni otteniamo una pietra nel secondo non succede niente e così via potrebbe capitare anche però di trovare una scala all'interno del nostro dungeon in questo caso semplicemente effettuiamo l'azione di passare il livello successivo togliamo un livello mettiamo una carta nuova ed eccola qui l'azione aprire i geodi quando mettiamo qui la nostra pedina possiamo andare ad aprire i nostri geodi possiamo aprirne uno o più dipende quanti ne possediamo nel nostro inventario prendiamo i geodi che possediamo e per ogni geode tiriamo un dado facciamo finta di aprire il geode magma che è questo qua vedete c'è una scheda andiamo a tirare vediamo che cosa è uscito è uscito un cuore ho preso un artefatto quindi vado a pescare una tessera artefatta nel sacchetto relativo l'omnigeode faccio un altro tiro è uscito il fiorellino con questo pesco una carta oggetto andiamo adesso a vedere come donare minerali e artefatti al museo ci capiterà come avete visto di pescare dei minerali e degli artefatti questi hanno delle lettere noi cosa dobbiamo fare quando andiamo qui dobbiamo andare a donare piazzando l'artefatto o il minerale nella lettera corrispondente in questo caso vedete piazzola e posso donare quanti artefatti voglio nella stessa azione per ogni artefatto che io vado a donare ottengo un cuore nel momento in cui riesco a completare una colonna ottengo un oggetto epico attenzione perché questo oggetto qui vedete che è un punto interrogativo vuol dire che può essere messo in qualsiasi lettera e se una lettera è già occupata non si può più donare un artefatto con quella stessa lettera andiamo a vedere come pescare l'azione di pesca è particolare perché può essere effettuata in tre zone differenti del nostro tabellone qui possiamo pescare i pesci di fiume qui possiamo pescare i pesci di oceano e qui i pesci di lago questa differenza è molto importante perché quando io decido di andare a pescare potrò pescare i pesci dal tracciato solamente del colore relativo a dove io ho messo la mia pedina quindi se io vado a pescare pesci di fiume potrò pescare i pesci solo che hanno lo sfondo azzurro in questo caso solo questo pesce qui che è anche un pesce leggendario se io vado a pescare pesci di lago lo sfondo è verde quindi solo questi qui se vado a pescare pesci oceanici lo sfondo è bianco quindi solo questo qui ipotizziamo che io vado a pescare al lago quindi i pesci con lo sfondo verde faccio la mia azione posso eventualmente pescare quindi solo quelli con lo sfondo verde prendo i tre dadi stardio questi qua e li vado a lanciare questo qui è il risultato come faccio a pescare adesso io devo andare a vedere cosa mi richiede ogni pesce e vedere i suoi simboli necessari allora cominciamo dal fiore io potrei pescare questo pesce leggendario ma siccome questo è un pesce di fiume io in questo caso non posso andarlo a pescare i pesci verdi mi richiedono un cuore o un omino verde un cuore oppure questa schifosissima carne questa carne abbiamo visto che si può trovare nelle miniere in questo caso senza bisogno di avere un risultato di dado io posso scartare questa tessera per andare a pescare questo pesce andiamo adesso a vedere ancora i risultati io posso utilizzare un risultato per un solo pesce quindi in questo caso io potrei prendere o questo pesce utilizzando tutti e due oppure prendere questo pesce utilizzando solo un cuore in questo caso questo verrebbe sprecato ma attenzione perché abbiamo questa tessera io decido allora di utilizzare un cuore e un omino verde per pescare questo pesce primo perché quando lo andrò a vendere mi frutterà una moneta in più ma poi perché ha questa tessera di fianco vedete che c'è una freccia vuol dire che se io pesco il pesce in direzione di questa freccia ottengo anche una carta oggetto quindi vado a pescare la prima carta oggetto dal mazzo e la metto nel mio inventario fatto ciò scarto questa tessera tutti i pesci che sono rimasti vengono spostati sulla destra e gli spazi vuoti vengono subito riempiti in questo modo qui attenzione che sul tracciato in questo momento ci troviamo un pesce leggendario il pesce leggendario è utilissimo perché può aiutarci a compiere sia l'obiettivo del nonno sia alcuni obiettivi dei pacchetti del centro comunitario e inoltre ci dà un sacco di soldi nel momento in cui andiamo a venderlo attenzione che se usiamo un pesce leggendario lo andiamo a scartare se lo usiamo dal nostro inventario nel momento in cui noi dobbiamo andare a spostare i nostri pesci sulla destra con la carta di inizio stagione i pesci che escono fuori vengono scartati dal gioco mentre i pesci leggendari vengono rimessi nel sacchetto e riutilizzati andiamo adesso a vedere come farci amicizie da gus peschiamo la prima carta del mazzo e andiamo a vedere che cosa ci chiede in questo caso il nostro Alex allora per diventare amico dobbiamo donare degli oggetti dal nostro inventario questa colonna sulla sinistra ci dice che se noi gli doniamo un oggetto con questo simbolo quindi un prodotto della mucca lui diventa nostro amico in più guadagniamo due cuori sulla destra invece sono raffigurati questi qua tutti gli oggetti che lui non vuole quindi oggetti che non possiamo donargli perché a lui non piacciono tutto ciò che non è raffigurato né qui né qui possiamo donargielo per farlo diventare nostro amico e guadagnare un solo cuore anziché due se lui diventa nostro amico nella stagione del suo compleanno quindi in questo caso l'estate otteniamo un cuore in più una volta che abbiamo conquistato l'amicizia mettiamo la carta di fianco alla nostra plancia di gioco e in più qua possiamo vedere che quando ad inizio stagione esce simbolino regalo possiamo scegliere una delle abilità regalo tra tutti i nostri amici che abbiamo conquistato durante il nostro gioco questa invece è un'icona che ci dice che possiamo sposarci con Alex quando otteniamo il nostro oggetto epico The Mermaid's Pendant possiamo sposarci con questo amico cosa vuol dire sposarsi? per compiere un matrimonio dobbiamo semplicemente affibbiare la carta del ciondolo alla carta del personaggio con cui vogliamo sposarci in questo caso otteniamo la pedina del coniuge questa è molto importante perché nel nostro turno ci permette di fare un'azione ulteriore quindi oltre le nostre due azioni possiamo usare il coniuge per farne un'altra possiamo utilizzare il coniuge all'inizio del turno tra un'azione nell'altra oppure dopo aver svolto le nostre due azioni andiamo adesso a vedere come comprare e piantare i semi o vendere i nostri oggetti in situazioni di emergenza come vi ho detto già ad inizio tutorial è possibile vendere gli oggetti in due fasi diverse una col cestino di spedizione durante la fase stagione o una durante questa azione qua se vendiamo gli oggetti durante la fase di stagione col cestino prendiamo il valore dell'oggetto il valore totale se invece li vendiamo in questa fase qui purtroppo guadagneremo solamente una moneta per ogni oggetto a prescindere del loro valore in questa fase possiamo comprare semi possiamo comprarne quanti ne vogliamo al prezzo di una moneta per ogni seme possiamo comprare però solamente i semi della stagione in corso se ad esempio siamo in autunno potremo comprare solo i 4 semi stagionali dell'autunno come funziona io decido di comprare la zucca e la devo posizionare sul tracciato dei semi attenzione però che non posso piazzarla dove voglio bensì devo fare riferimento alla goccia se compro la zucca dovrò piazzarla nello spazio numero 5 che è questo qua se vado a comprare la melanzana la metterò nello spazio 3 siccome qua abbiamo una pastinaca che occupa lo spazio 2 in questo caso io non potrò comprare questa insalata perché lo spazio 2 è già riempito siamo arrivati all'ultima ma importantissima azione che è quella del centro comunitario qui come vedremo adesso possiamo rivelare tutte le azioni dei pacchetti o soddisfare qualsiasi obiettivo riusciamo a fare nel nostro turno possiamo soddisfarne 1 2 3 o eventualmente tutti spendendo un cuore noi possiamo rivelare uno degli obiettivi ancora coperti quindi facciamo in questo modo qui ripeto non ci sono limitazioni io potrei spendere 6 cuori per rivelare già tutti quanti gli obiettivi dei pacchetti specifica l'azione centro di comunità mi permette di risolvere gli obiettivi della comunità gli obiettivi del nonno vengono risolti man mano durante la partita nel momento in cui riusciamo a soddisfare le richieste una volta che abbiamo scoperto tutti i pacchetti possiamo sapere cosa dobbiamo fare per soddisfare tutti quanti questi obiettivi ad esempio qua mi chiede di mettere sopra questa carta 8 monete per ogni giocatore in partita se siamo in 2 dobbiamo mettere su 16 monete qui un minerale per giocatore quindi 2 minerali ipotizziamo sempre una partita 2 qui un cuore più un pesce quindi 2 cuori più 2 pesci qui abbiamo un ortaggio autunnale per ogni giocatore e qui abbiamo un foraggio invernale per ogni giocatore potrebbe capitare che alcuni obiettivi non si possono più fare ad esempio se noi superiamo l'autunno andiamo in inverno e non abbiamo a disposizione questi ortaggi non possiamo più farlo quindi possiamo eventualmente spendere un cuore per andare a sostituire l'obiettivo che decidiamo di cambiare con un altro obiettivo che metteremo già a faccia in su questo perché molte volte ripeto la stagione passa non abbiamo gli oggetti necessari e quindi la partita sarebbe automaticamente persa quindi si cerca di correre ripari per ottenere gli oggetti necessari a compiere un altro obiettivo una partita star du valley può finire in due modi diversi i giocatori perdono nel momento in cui viene rivelata la carta di fine inverno i giocatori vincono istantaneamente nel momento in cui riescono a soddisfare tutti e dieci gli obiettivi di gioco e con questo siamo giunti al termine del tutorial di star du valley the board game un titolo di colmedeiros e concert ape per 1-4 giocatori della durata indicativa di circa 60 minuti per partita io vi ringrazio per avermi seguito vi ricordo che potete mettere un like e un commento al video ed iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere le prossime novità un grazie ancora per avermi seguito ci vediamo al prossimo video ciao a tutti